ciao a tutti io sono francesca e oggi voglio farvi l'unboxing di questo nuovo ipad per me non è nuovo perché lo uso da qualche giorno è un ipad di nona generazione da 256 giga e ho già attivato le varie garanzie apple care e un'altra garanzia di troni che si chiama estendo adesso andiamo ad aprire apple care l'ho attivata per due anni al prezzo di 80 euro adesso non vorrei fa tanto io non ho utilizzato ancora niente di questo diciamo di questa scatola parte l'ipad perché avendo già altri prodotti apple insomma mi sembra uno spreco dover aprire questi due c'è questo carica batterie qua siccome comunque ho già quello dell'iphone 12 quello del vecchio ipad quello del vecchio iphone 11 insomma e via discorrendo anche quello del vecchio iphone 8 insomma e quindi è anche per questo che gli ho fatto l'unboxing perché io diciamo che i caricabatterie tendono utilizzarli dopo più o meno un anno che ho il dispositivo perché naturalmente tanti in casa di caricabatterie che preferisco rompere quelli che ho già che ho già aperto allora andiamo a vedere se ci sono i classici adesivi gli adesivi ancora non ho tirati fuori quindi spero ci siano sì che ci sono che i due adesivi apple adesso tra l'altro li trovate anche nelle ricariche quelle da tipo 15 25 euro e 50 euro volete comprarli insomma quando volete comprare dei giochi o così dove fate queste cartine poi ci sono adesivi e sono anche diversi nel senso che sono colorati in modo diverso e sono carini comunque è un piccolo consiglio che li do questi sono sempre ben accetti diciamo che anch'io sono la classica che attacca queste visivi nel retro della macchina quindi mi fa un piacere bene e era scontato non so se sia ancora scontato comunque il prezzo intorno ai 440 euro scontato sì ragazzi sto guardando forum vabbè dettagli che sto guardando in realtà stanno soltanto la televisione io non sto guardando quel programma lì e però c'è per me ripeto gli ipad sono veramente una roba c'è sono sono io li uso quindi per me sostituiscono un pc perché io il pc il mio personale non ce l'ho però in compenso due tablet e continuerò ad usare anche l'ipad precedente perché lì ho dei film ho delle applicazioni che insomma non mi va di resettare per farle ripartire da qua e quindi adesso praticamente ho due ipad vabbè ogni tanto ci sta a cavarsi qualche sfizio detto questo io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao